Forza Lazio! Impiegato da Pecchia soprattutto come esterno sinistro, è un giocatore dotato di buona velocità e di buona tecnica e bravo anche in fase di impostazione. Gli unici dubbi sono quelli riguardo alla sua denota fisica, infatti prima di trovare continuità quest'anno è stato fermo quasi due anni per un grave infortunio al ginocchio, appunto sta ritornando a giocare con continuità solamente in questa stagione. Sicuramente quindi è un giocatore che se riesce a stare bene potrà dare una mano a Inzaghi che forse ha bisogno nel reparto arretrato di un ulteriore giocatore di esperienza che possa dare una mano, visti anche gli impegni in Coppa sia Italia che in Europa League per il proseguo della stagione. Anche se rimangono alcuni dubbi sulla sua denota fisica, sicuramente un giocatore che data la sua esperienza anche internazionale potrà sicuramente dare una mano alla Lazio. Fateci sapere cosa ne pensate e ciao a tutti!